Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Anche quest'anno una lettera per il mese di febbraio è indirizzata ai giovani in vista di una seconda quaresima particolare. Sì, è una quaresima particolare perché il 5 febbraio, come già annunciato, ci sarà la conclusione che il processo di Ossesano per la biattificazione di un giovane, di un adolescente e poi al mio piacente, il 27 febbraio, inizierà con l'apertura della Porta Santa il giubileo di un santo giovane, patrono dell'Abruzzo, ma soprattutto anche patrono dei giovani cattolici italiani. E allora queste due circostanze ci invitano e mi hanno sollecitato a rivolgere ai ragazzi un appello particolare, soprattutto un incoraggiamento particolare, scegliendo una bellissima frase del Vangelo di Marco «Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò». Ecco, ho invitato i ragazzi a scoprire lo sguardo di Gesù perché non basta essere guardati. Nella lettera faccio riferimento che anche le telecamere si guardano, però le telecamere non ci aspettano. Gesù vive se si guarda e si aspetta e credo che per i ragazzi sapere di essere aspettati, io faccio anche riferimento alla mia mamma che mi aspettava prima che tornassi a casa, e questo è importante nella vita, scoprire che c'è qualcuno, che c'è il Signore, che nell'esperienza soprattutto di giovanire, quando ci sono momenti difficili, grandi secche da compiere e anche qualche limite che i giovani scoprono nella propria vita, sapere che c'è Gesù che fissa con suo sguardo e li ama, cioè in concreto e soprattutto in una società come quella contemporanea, in cui non abbiamo mai tempo per aspettare, sapere che c'è Gesù che si aspetta, credo che ci aiuta a scoprire che nonostante i ritmi, tante volte anche superiori alle nostre volontà, però c'è anche il tempo per fermarsi, perché c'è qualcuno che è capace, che è disponibile a fermarsi con noi.